Qua c'è un cavallino, un cavallino per i cazzi suoi. Dove sei Aaron? Sono nel tempio. Ah sei dentro il tempio? Io sono fuori, indietro, sono rimasto indietro. Sono rimasto a uccidere dei nemici che hai lasciato indietro. No. C'è vacca. Troppi, troppi. Ok, che stanza hai questa? C'è una. Ci sono delle leve? Questo l'ho tirata io. Ma vengono giù pali? Perché venivano giù quei paletti qua? Cioè praticamente tu tiri la leva, ti vengono a schiacciare. Adesso te l'ho salto. Ti va bene, ti va bene. Un'altra leva ancora. Tirala tu stavolta. Paura? Non è successo niente. Ecco. Io direi di tornare indietro a vedere. Sì sì. Non è che non fa niente. Ha aperto questa porta qua. Bisogna andare prima di qua perché credo che c'è un'altra cosa. Ma che cosa c'è? Che? Capi. Dove sei? Sono nella camera avanti. No. 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 Io, io, io. Assetto. Appunto. Come ci siano team forniti qua. No, perché non ho voglia. Questa è una mappa multiplayer. Ma questo è un punto della mappa bruttissimo che poi l'hanno scutato per fare anche multiplayer secondo me. Ok. Mi sento revieware. da un'altra da quanto la donna riesco a prendere le munizioni madonna per me 15 stanno arrivando finalmente lagga brutalmente diciamo il possibile però dobbiamo ancora fare qualcosa in tattoria quello che stai chiusa a me trovo con i cannoni di nagarone uccidere uccidere madonna c'è un danno serio qua bravo gira di qua gira intorno vai ma ci posso un litragliatore almeno eh eh ce la sondiamo eh eh vabbè prego fatemi qualcosa di potente cioè ce l'ho io è una roba potente ma eh ria giochiamo eh si ok ecco lanciapia dammi lanciapia 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 ma che cavolo vuoi tu cane maledetto dobbiamo fare la video ah perchè ce l'avevo dietro si vabbè ce l'avevo dietro formula 1 eh 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 maledetto anche skype questa sera ci si mette a fare il trollatore bene bene di quando si è rientrato mi sono trovato tre sti caglioli davanti vale abbiamo anche skype che ci trolla oltre il gioco stasera eh si è aperto si è aperto è tutto buio ok direi che per questo eh questo episodio ci possiamo concludere qua quando i video vanno ma gameplay vanno male la connessione va male non ce n'entra a fare bisogna saltarne il prossimo giorno il prossimo episodio si chiamerà Perseo Persepoli l'abrio dell'elefante ok faremo quello la prossima volta brutto direi che ci possiamo fermare qua stop